Musica Ultimi giorni da rettore per Angelo Tagliabue, che dopo sei anni si congeda dal suo incarico al vertice dell'Università dell'Insubria. Un bilancio sicuramente positivo, malgrado che siano state, come ben sapete, delle avversità. Le avversità però ci hanno fatto crescere, ci hanno reso più forti, ci hanno reso più dinamici e penso che sia giusto che poi ci sia un cambio di vertice, perché dopo un po' le idee vengono un pochino meno, ci vuole un impulso nuovo, un po' come nelle squadre di calcio, ogni tanto si cambia l'elenatore per migliorare le performance. I grandi CEO si alternano nelle aziende, quindi anche noi dobbiamo rinnovarci. Il momento dei saluti è avvenuto alla presenza delle autorità, degli ex rettori e della nuova rettrice Pierro, in occasione della presentazione di un volume fotografico che ripercorre gli ultimi sei anni. Un'istantanea fatta in questo periodo per cui abbiamo scelto un libro fotografico apposta per la non comparazione delle azioni. E questo è un altro mattone che abbiamo messo per la crescita del nostro Ateneo, che sicuramente procederà nel migliore dei modi. Il rettore uscente lascia in eredità all'Ateneo un'aula magna completamente rinnovata. La nuova sala nella sede di Via Ravasi potrà ospitare quasi 300 persone e vuole essere un simbolo dell'innovazione dell'insubria. Siamo sempre molto dinamici nelle decisioni, i tempi di realizzazione di questa aula magna ne sono una testimonianza ed era necessario essere sempre al passo coi tempi, sarà sempre più necessario. Guardate il concetto di studentato, il studentato diffuso che è stato per sei anni portato avanti come tutto il resto. Ormai è notizia di oggi, però non è stato così semplice in epoca passata portare avanti certi concetti.